ma poi Verolana manco c'è sì. Buonasera. Io? Come non c'è solo Verolante? No, per Laura. Davide. Verolante? Sì, ci sono 9 anni fa. Ma l'aria è venuta? Sì. Sta giù? Sì, sta a casa. Speriamo da no, Piero. Guarda che tu stai registrato in audio. L'hai messo dopo, l'hai messo. Guarda che ti metto su YouTube. Vabbè, fatemi fumare anche a me. Fatemi fumare anche a me. Dico, non le posso. E dillo prima, no? Ma che belli che sono. Ah, e va bene. Questi li leghiamo e... No, li ti attacchi. Addovamo. Addovamo. Poi è al tramonto. Meglio mi sento. Prima stavo proprio a cambiare il colore. Infatti voglio andare lì perché è proprio bello il... Quando era venuto quel po' di sole, stavo proprio a cambiare il colore. Eh? Sì. Ma è proprio bello. No, ma qua sopra è fantastico, veramente. Ora, a parte gli scherzi... Io ho sempre adorato il posto qua sopra. Però perché il sole ora glissa tutto? Il sole gliene. Mamma, lo vedi dove l'ho portato? Ho così cresciuto. Ma va lì. Ma va lì. E mi manchi da morire. Cazzo. E vaffanculo già. Sì. Se sei ripando da terra, ma eh. A dove va? Giù. Sì, Diero ma sta trippa... Ma sta... È una protezione contro le zanzare. Le zanzare. Eh, eh. Buonasera. Ciao. Vabbè, insomma, questo toramonto ci voleva. Tu l'hai notato, zio, quel teschio lì sopra? Certo che l'ho notato. Ci stava il cimitero a fianco. Anticamente le chiese fungevano da cimiteri. Santa Francesca, sotto, dove hanno costruito la sala a fianco alla canonica. Lì sotto era venuto cadavere. Ricordate che l'hanno arrivato fuori? Sì, sì. E li mettevano tutti ammocchiati, li avvolgevano in un lenzuolo, aprivano una botola e li buttavano giù. La passa comune. La passa comune. Ma manco sepolti, proprio, capito? Ittati là. Ittati. Ittati come le bestie. E poi davano degli eretici a mettere fuori dalle mura, ad esempio. A me va la stessa cosa. Madonna che meraviglia. No, no. Lo mettiamo dentro. No, no. Lo mettiamo fuori. A questo punto. Sempre costi buttare, capito? Ogli te li guarda dove ti tengo. O tutti, che non è una cosa comune. non è un po' chiaro. No, no, no. No, no no. No. Grazie per la visione!